Tavolo di confronto ieri a Palazzo Chigi tra CGL, Cisleville e il governo, un incontro durato più di un'ora definito dai sindacati soddisfacente. Il premio era confermato alle sigle sindacali l'impegno ad avviare il confronto con tavoli tecnici per la riforma della legge Fornero e su quello che sarà il nuovo sistema previdenziale. I tre tavoli di confronto riguarderanno la flessibilità in uscita, la previdenza per i giovani e le donne e quella complementare. Tutto rimandato però dopo Natale, tra i nudi da sciogliere e il calcolo contributivo per il dopo quota 102.